Sono molto contento, una riunione con la mia famiglia di rubire un hamster del Parlamento mirando con un progetto di passatempo che sta trovando, in questo caso è che Maria Convento veniva da conoscere in comunità, un edificio di Gopiano che per molti tempi era in Missi Playa, in Missi Playa e Università di Aruba, aveva un po' di abbandonare, in questo momento era un sottocorto di storia di addiccio, non ciole, non cadrente di ingegneria, in questo momento era stato passato completamente, e anche da molti anni fuori di uso, e in questo momento è stato fatto un bel edificio per trecchi con un altro departamento, non mescolto con un edificio di abbandonare, non provo a usare, e in questo momento ora è stato un accordo con il fondo europeo per poter invertire e creare possibilità per la Università di Aruba di expandere il curriculum, in questo caso, quello che si chiama System, con una combinazione anche di innovazione, di insegnanza, ma anche di avere un medio ambiente in questo programma, in particolare in Rolanda, in Europa, arriva il terreno qui, che crea possibilità, ora, con il Parlamento di Aruba, non ciole, attendere con due problemi, uno, non problema, per un'università ampia, per l'altro, da un edificio, con una chieda di gobierno, cioè, lo che non ciole, con una chieda di gobierno, di investire alcuni euro, per rinnovare, ampliare il cammino, quanto possibile, in sua forma originale, e il governo, che da donna di proprietà, per donare un accordo con la Università di Aruba, per portare il GESSA, per più di cinque anni, e per definire un accordo con la Università di Aruba. dell'Università di Aruba.